Buongiorno, sono Raffaele, ho 55 anni e vengo da Pistoia. Ho avuto problemi con i denti, molto probabilmente li avevo fragili, si sgretolavano. Ho dovuto rinunciare a uscire, a ridere, quando ero in mezzo alle persone, la mia autostima l'avevo sotto i piedi e purtroppo mangiare sempre in maniera male, sempre dolori allo stomaco, una vita abbastanza triste e sofferente. Praticamente ho fatto il primo step, abbiamo concordato tramite la panoramica che avevamo andato a fare 12 impianti, 6 sopra e 6 sotto. Sinceramente quando sono arrivato sono rimasto molto sorpreso perché praticamente in 15 ore ho fatto un lavoro che in Italia praticamente fanno dai 3 ai 6 anni. Cioè la gioia di mangiare quella è veramente la prima cosa. Poi sorridere e regalando anche un sorriso a persone che sono in difficoltà e mi sento quando rido con i denti che ho in bocca adesso mi sembra di essere un'esplosione di energia, di sole bellissima. Per me aver conosciuto il dottor Palma su Facebook è stato come un dono dal cielo, veramente una cosa meravigliosa, piano piano ho visto la sua squadra come era organizzata e mi sono fatto coraggio, ho preso fiducia e ora veramente per me mi è cambiata completamente la vita e mi sento una persona veramente nuova e veramente per me questa qui è stata un'occasione per iniziare finalmente dopo 50 anni e passa a volermi bene. E ringrazio veramente tutta l'equipo del dottor Palma perché io sono un uomo rinato, ho risuscitato completamente. Grazie. Grazie.